Siamo pronti, Praga 2012, Praga 10, Emanuele Centotti, del 2012, e Gigi Cinto, che ho scritto in due ore questa canzone, ora lo so, una dedica speciale, poche parole, poche parole, a buon intenditore, c'è anche Zucca, siamo pronti, 3, 2, 1, Gigi Cinto. Applausi, grazie, e Elisa, applausi. Ancora qui, io ti ho cercato, io ti ho trovato, e in mezzo a mille altre sono stato, fulgorato, accegato, e sono ancora ancora emozionato. Penso che tu, sei quello che, 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 che io ho sempre desiderato, e so quello che ho. E cammino, 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 però, ora lo sai, quello che hai, e cammina, 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 vedrai, la nostra vita. Quel che dirà, forse, lo sappiamo entrambi già, ah, ah, solo che, questo vedrai, Andrea Muerti, insieme sai, ora ti dico, queste parole, e... Andiamo di là, andiamo di là, e facciamo l'amore, 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 così per farti, capire quanto, sono importanti, queste parole, e... Non è in caso mai, non si sa mai, un giorno, sconderai, ora lo so, quello che ho, e cammino, 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 però, ora lo sai, quello che hai, e cammina, 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 vedrai. Questa canzone, l'ho fatta per te, per dimostrarti, tutto l'affetto che c'è, dentro di me, in questa notte, vabbè, comunque, c'è, dai, stiamo lavorando, per voi, per voi, guardate, interesse della Sara, allora ragazzi, un saluto a tutti, dopo due ore di impegno, lui si è fatto la calma, ha fumato la birra, Ma Giulia, anche qua non pensa quanto siamo fatti qua, ciao a tutti.